È un'iniziativa a cui abbiamo iniziato a lavorare qualche mese fa perché ci siamo domandati come possiamo ringraziare chi viene tutto l'anno a Sanremo. Abbiamo individuato il periodo più importante per quanto riguarda la nazione francese, ossia la festa della Bastiglia, la presa della Bastiglia e conseguentemente abbiamo dedicato questo fine settimana ai turisti francesi. Turisti francesi che, non dimentichiamolo, frequentano Sanremo tutto l'anno ed è una fetta importante del nostro turismo. Abbiamo pensato a questa manifestazione proprio come ringraziamento e abbiamo pensato di imbandierare la città nelle isole pedonali, in alcune zone, con le bandierine italiane e francesi. Abbiamo messo le bandiere italiane e francesi sui pennoni di Portovecchio e distribuiremo un piccolo ricordo ai turisti francesi, una cartolina con una frase di ringraziamento del nostro sindaco Alberto Bianchieri e poi un momento di incontro al Mercato Nonario, anche questo, siccome è un luogo importante proprio per il turismo, al Mercato Nonario, dove ci sarà un incontro con la rappresentante del municipio di Nizia, della Municipalità di Nizia, Madame Navalesi, che si occupa dei rapporti trasfrontalieri. Ci sarà questo momento di incontro in cui verrà omaggiata da parte nostra in maniera simbolica di un accesso con dei prodotti tipici della zona proprio per far vedere come il turista francese a Sanremo cerca anche l'agroalimentare. Ci sarà anche un piccolo intervento dell'orchestra sinfonica a suggellare questa iniziativa e speriamo che sia gradita. Da quello che abbiamo, i riferimenti che abbiamo dai social che abbiamo fatto partire in anticipo oltralpe, è stata molto gradita e abbiamo riscontri molto positivi. Consigliere Viale, come si svolgeranno queste giornate che scattano giovedì? Scattano giovedì, però è previsto che da domani ci sarà la distribuzione del materiale ai pubblici esercizi e ai negozi di Sanremo. L'assessore si è scordato di dire che ci sono anche delle coccarde che distribuiremo a tutti i negozi con la frase di benvenuto. Quindi da domani distribuiranno questo materiale e da domani inizierà a essere montate le bandiere e i filari di bandierine, anche il mercato annonario e il mercato del pesce. E si concluderà domenica, la giornata di domenica. È stato un investimento pubblicitario anche in Costa Azzurra per poter promuovere l'avvenimento? È stato un investimento sui social tramite Andrea Ventura e il sito Saremo Love & Music dove abbiamo avuto dei riscontri veramente positivi. I commenti sono tutti positivi, addirittura un commento sono fatto stampare perché non lo facciamo anche noi per gli italiani in occasione della loro festa. Quindi addirittura è una cosa inaspettata veramente.